Buonasera a tutti ragazzi e bentornati su Crypto Salad, io sono Federico, oggi è il 15 febbraio 2021, guardiamo insieme la chart di Bitcoin, commentiamo quello che è successo in particolare tra ieri sera e questa mattina, Bitcoin si trova a 48.500 dollari all'incirca, guardiamo il time frame delle 4 ore, guardiamo quello settimanale perché c'è un importante incrocio rialzista su un oscillatore che vi ho mostrato qualche episodio fa, quindi ne parliamo insieme. E poi ragazzi guardiamo la chart di Ethereum contro Bitcoin perché in questo momento Ethereum sta testando un livello di supporto molto importante ed è una chart che va sicuramente ad influenzare quella che è la Bitcoin Dominance perché Ethereum è la seconda crypto più capitalizzata dopo Bitcoin. Quindi ragazzi come al solito se vi sembra interessante lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, cliccate la campanella per ricevere le notifiche e lasciate i vostri commenti. Ragazzi dicevamo Bitcoin in questo momento a 48.500 dollari, siamo ancora al di sopra di questo punto importante di supporto, si tratta della banda logaritmica dello 0.61, quindi un livello molto importante che Bitcoin deve rispettare per continuare ad avere un'ottica nel medio termine rialzista. Questa mattina abbiamo avuto un ritracciamento, Bitcoin torna in zona a 45.400 dollari e poi successivamente rimbalza. Vi parlavo della possibilità che fossimo all'interno di un rising wedge, si tratta di una formazione ribassista per cui il prezzo è compresso tra resistenza e supporto che sono tra loro confluenti. E poi di solito c'è la rottura del livello di resistenza, quindi una formazione che nonostante veda il prezzo muoversi verso l'alto ha un outlook di solito ribassista. Questa mattina c'è stato come dicevamo un ritracciamento, Bitcoin sembra aver violato questo livello di resistenza e si è fermato precisamente in corrispondenza del punto pivot della settimana. Vi ricordo che il punto pivot è il punto di supporto e resistenza statico più importante della settimana che si trova a 45.400 dollari, quindi il prezzo ha rimbalzato sul punto pivot, ha trovato supporto, questo a mio avviso è sicuramente un tipo di andamento rialzista e si sta riposizionando verso l'alto andando a minacciare di nuovo questo livello di resistenza. Vi ricordo ragazzi che se il prezzo si trova sopra il livello pivot l'ottica della settimana è rialzista, quindi è probabile che il prezzo vada verso il livello R1 che si trova a 52.800 dollari. Se invece dovessimo perdere il livello pivot come punto di supporto a quel punto possiamo aspettarci che il prezzo vada verso S1 che si trova a 41.000 dollari in questo momento. Ma per adesso sia la settimana che il mese di febbraio rimangono saldamente al di sopra del livello pivot, quindi con un'ottica, una probabilità verso l'andamento rialzista. Se ragazzi andiamo a modificare leggermente questa trend line posizionandola in corrispondenza del minimo raggiunto questa mattina vediamo che Bitcoin probabilmente si muove all'interno di un canale parallelo per cui a seguito di questo impulso rialzista Bitcoin sta affrontando una fase di consolidamento rialzista in attesa del prossimo movimento di volatilità. Andiamo ragazzi a guardare questa chart per parlare dei volumi, visto che alcuni di voi mi hanno scritto che visto che i volumi sono bassi ci si aspetta un movimento verso il basso per Bitcoin, quindi un breakdown. Vi mostro che non necessariamente è così, effettivamente i volumi in questo momento sono bassi, vedete qui, ma questo non vuol dire per forza che il prezzo vada verso il basso. Vi mostro per esempio in questa circostanza come i volumi erano bassi, tuttavia il prezzo si è poi successivamente mosso con volumi verso l'alto. In questa circostanza anche qui volumi bassi, il prezzo poi si muove con volumi verso l'alto. Qui avevamo sti volumi bassi, il prezzo poi si muove con volumi verso il basso, però non necessariamente ragazzi i volumi bassi vogliono dire che ci sarà un movimento ribassista. Anzi, se consideriamo questa una bull flag, quindi la bandiera e successivamente, scusate l'asta della bandiera e successivamente la flag, nelle flag di solito si vede l'ingresso nella flag con un impulso di volumi. Così effettivamente è stato in questa circostanza, quindi l'8 febbraio scorso, abbiamo avuto questo movimento rialzista accompagnato da volumi, una flag con bassi volumi, quindi assolutamente normale, anche se questa fosse una bull flag. E' un successivo impulso eventualmente rialzista a seguito della rottura di questa trendline di resistenza accompagnato da volumi o eventualmente, se questa non fosse una continuazione rialzista, un breakout del supporto accompagnato da volumi. Ma in questo momento per me l'outlook, come dicevamo prima, rimane rialzista. Se ragazzi guardiamo la chart settimanale, vi mostravo qualche video fa la possibilità che ci fosse un incrocio rialzista di questo oscillatore che è l'area size stocastico, quando queste linee sono incrociate verso l'alto vuol dire che il momentum è rialzista, viceversa quando sono incrociate verso il basso il momentum è ribassista. Abbiamo avuto la conferma, soprattutto all'apertura di questa settimana, che c'è stato l'incrocio rialzista, quindi il momentum dal punto di vista settimanale, quindi nel medio termine, rimane, anzi torna ad essere rialzista per Bitcoin. Se ragazzi poi guardiamo la chart che paragona Ethereum contro Bitcoin, Ethereum è la seconda cripto per market cap, c'è questo livello che, contrassegnato da questa banda verde, che è stato un livello molto importante di resistenza per Ethereum, guardate qui, quante volte è stato testato come livello di resistenza? 1, 2, 3, 4, 5 e anche 6, praticamente a inizio febbraio il prezzo di Ethereum ha violato questo livello di resistenza, vi avevo parlato di un potenziale testa-spalle invertito, per cui spalla sinistra, testa e spalla destra, con una neckline proprio in corrispondenza di questo livello. Abbiamo avuto la rottura della neckline, quindi la rottura della resistenza e in questo momento il prezzo sta ritestando il livello di resistenza come punto di supporto, quindi Ethereum sta cercando di fare un flip resistenza-supporto. A mio avviso ce la farà e quindi la continuazione di Ethereum contro Bitcoin potrebbe essere rialzista e quindi a beneficio della Bitcoin Dominance che potrebbe perdere punti percentuali a favore di Ethereum e anche a favore di tutte le altre altcoin. Quindi ragazzi per oggi è tutto, fatemi sapere cosa ne pensate, grazie per la vostra attenzione, ci vediamo al prossimo episodio. Ciao!